Il pastificio Felicetti è nato nel 1908 a Predazzo e da quattro generazioni è di proprietà della famiglia Felicetti. Predazzo nelle Dolomiti è secondo noi il luogo ideale per la produzione di pasta. Ci troviamo ad avere degli ingredienti particolari che sono l'acqua, che è l'acqua pura di sorgente che sgorga a 2000 metri nelle Dolomiti, precisamente nel Latemar, e l'area di montagna che sicuramente non lascia nessun tipo di residuo durante il processo di essiccazione. La nostra scelta per quanto riguarda questo progetto è stata quella di selezionare delle monovarietà per cui di non miscelare grani duri ma di andare in campo e scegliere assieme agli agricoltori quelli che fossero i prodotti migliori dal nostro punto di vista e dal loro punto di vista per la produzione di pasta. Utilizzando soltanto materie prime provenienti da agricoltura biologica e non materie che sono state trattate con prodotti chimici di sintesi. Durante questa edizione di Taste abbiamo pensato di avvicinarci ai cuochi non professionisti cercando di stimolarli alla produzione di piatti che riguardassero la pasta dove la pasta diventasse protagonista del piatto e non soltanto un supporto per il condimento. In questo caso quattro clienti nostri hanno vinto la possibilità di fare shopping all'interno di Taste e di tradurre con la loro maestria gli ingredienti acquistati abbinandoli alla pasta in un piatto particolare che è stato giudicato da una commissione. Devo dire che sono stato molto soddisfatto perché tutti i quattro hanno esattamente interpretato in maniera perfetta quello che era il senso della nostra volontà, cioè quello di rendere la pasta protagonista del piatto.